Giuseppe Grieco In arte Editor Dreams È un artista versatile ed eclettico Autore del Il Cifrario Segreto Attrazione Psicologia del Pensiero Positivo E il Codice Segreto Del Surriastrattismo Realtà dell'irrealtà E l'irrealtà della realtà Propone una produzione artistica variegata Deputata a esprimere e documentare Tutta la bellezza Lo splendore E la magnificenza Di architravi dell'universo Oniricamente e futuristicamente Ancora non definiti Atmosfere cosmiche Emergono dai dipinti astratti Di Giuseppe Grieco Che descrivono in un susseguirsi Di tinte gangianti e preziose La meraviglia dell'universo Sovrapposizioni cromatiche Guizzanti segni Si susseguono in un movimento continuo E accompagnato da un andante ritmato E armonioso Osservando la superficie del dipinto I vuoti sembrano prevalere sui pieni Grazie a un efficace processo di rielaborazione E sintesi messi in atto dall'artista Grieco Non lascia nulla al caso Ogni pennellata è meditata Declinata secondo un raffinato senso Del cromatismo E degli equilibri dell'architettura compositiva Permettendone di creare opere Non solo esteticamente piacevoli Ma arricchite da una sorta di inafferrabile magia Quasi mappe alchemiche Bagliori e sfumature Dialogano attraverso il segno Per descrivere un'emozione E regalare profili capaci Di catturare lo sguardo dell'osservatore Che attratto dalla sagacia Del gioco emozionale e interpretativo Viaggia oltre la superficie pittorica Sulla scia del rincorre e sidi linee Questi dipinti accolgono motivazioni dell'inconscio Rivelando forse Frammenti di memorie Evocando immagini di non facile decifrazione In quanto vagamente allusivi di visioni interiori Il cui contesto psicologico Appartiene a un'intimità Che l'autore non lascia mai del tutto trapelare Le opere di Giuseppe Grieco Fanno parte di collezioni pubbliche e private Oltre a essere state più volte recensite Su cataloghi e annuari d'arte contemporanea Ciao! 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 Ciao!